salve oggi vi volevo parlare di stress e di colesterolo perché spesso la domanda mi viene fatta come mai quando sono sotto stress o dei valori aumentati di colesterolo ve lo spiego subito perché spesso quello che noi andiamo a trascurare è un pochino la biochimica che c'è sotto un po le cose quando siamo sotto stress si libera il cortisolo cortisolo che è l'ormone dello stress il cortisolo fa liberare quindi zuccheri dall'interno del nostro corpo quindi anche se la persona non li assume dall'esterno quindi vengono liberati dall'interno e questo non fa altro che richiamare l'insulina l'insulina che va a stimolare all'idrossimetile guterico enzima reduttasi che vi ricordo essere l'enzima che è presente a livello epatico che produce per due due terze il nostro colesterolo e è endogeno quindi quando siamo sotto stress c'è questa maggiore attivazione di questo enzima epatico quindi più produzione di colesterolo quindi in questo caso quando siamo sotto stress aumenta anche il grasso a livello viscerale quindi vengono quindi aumentano quindi questi zuccheri abbiamo detto che vengono poi portati trasportati a livello della anche a livello del tessuto adiposo e convertiti anche in trigliceridi quindi in pratica dalla formuletta totale del nostro colesterolo che vi ricordo il colesterolo totale essere una sommatoria del colesterolo ldl più il colesterolo hdl più un quinto dei trigliceridi a volte troppo proprio per un aumento dei trigliceridi e delle e delle ldl aumenta poi come sommatoria aumento di conseguenza il colesterolo totale quindi dobbiamo sempre guardare tutto in maniera frazionata e vedere un pochino la situazione quindi quando vedi che stai mangiando sano che tutto a posto a livello alimentare ci sono quindi abbiamo detto stravizzano ci sono zuccheri tutto l'altro ti trovi valori di colesterolo elevato chiediti se sei stai vivendo un periodo un po diciamo particolare a livello emotivo e tutto il resto perché magari la causa è proprio quella è piaciuto questo video metto un bel mi piace poi condividere il video con i tuoi amici poi seguirmi sui vari social facebook instagram youtube ciao